E ciò li ti stimoni Quando che il santo padre passoieri per Pasquino ha tornato all'annunziata, stava con una ciurma indiavolata peggio d'un caporal dei granattieri, e faceva una certa chiacchierata al cardinal Orioli e a Farcognieri, che gli stavano a sede de' facciata tutte e due a zitti zitti e seri seri. La gente intanto strillava a tempesta, e lui de qua e de là d'arcarrozzone na' benedizionaccia lesta lesta, poi ritornava colle su manone a gistia quelli, e quelli con la testa pareva che gli dassino ragione.